Salve a tutti, prima cosa volevo fare complimenti a Cristiano che mi ha detto che ha partecipato al suo primo torneo di freccette e grazie ai miei consigli è arrivato terzo. Bravo Cristiano, sto contento. Poi volevo farvi una domanda, ma le mie risposte ai commenti si vedono o no? No, perché non ho capito se sono visibili o se non sono visibili, questa è una cosa che YouTube mi dice una roba che non ho capito, quindi fatemi sapere se i miei commenti che ho risposto a qualcuno di voi si vedono o no. Saluto a tutti.